Gromo, uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancone del Touring Club italiano, si prepara anche quest'anno a riassaporare un po' del suo passato. In che modo? Riprendiamo un po' il filo che è stato iniziato l'anno scorso, quando c'è stata la mostra delle spade. Abbiamo girato la nostra manifestazione, da fine Novecento l'abbiamo anticipata nei secoli a Medioevo, con non una pretesa grandissima da parte nostra, così prendendola molto alla leggera, però l'anno scorso è riuscita una manifestazione bella, piacevole e quest'anno la riproponiamo con cose nuove, con personaggi nuovi, attività nuove e qualcosa di diverso. Andiamo a vedere in sintesi anche il programma, che se non sbaglio comincerà già dal mattino. Dal mattino abbiamo un po' la preparazione di tutto quello che sarà il pomeriggio e la sera, quindi la manifestazione vera e propria inizia alle tre del pomeriggio, dove ci saranno tantissime comparse e tante manifestazioni proprio di gente che riprodurrà quello che era più o meno ciò che si faceva nel Medioevo. Quest'anno abbiamo invitato anche gli sbandieratori da Siena, che abbiamo visto già in azione a Vallalta, quindi sappiamo che è un prodotto garantito, molto belli e tante altre piccole cose. Abbiamo cercato di aprire cortili, aprire ville, la villa del Meloncelli, dove avremo i falchi, che l'anno scorso erano in piazza e li abbiamo spostati in una zona, secondo me, molto bella e quindi abbiamo allargato, come si può dire, la vista sul paese della manifestazione. Naturalmente attenzione anche rivolta alle spade. Sicuramente sì, avremo gli spadai, abbiamo gli arcieri, tutte persone che abbiamo avuto l'anno scorso, tutti i figuranti che abbiamo avuto l'anno scorso. Quest'anno ce ne saranno di più, sicuramente di più, indubbiamente di più. e speriamo, insomma, mangia fuoco e poi non posso dire tutto. Avremo la sfilata, alla sera la sfilata, quindi non posso dire tutto. Venite! Manifestazione, l'abbiamo detto, in programma sabato 18, ma ci sarà anche una specie di bis per chi vuole domenica 19. Ma sì, stiamo organizzando e ce la facciamo molto volentieri perché oltretutto sono bravissimi. Gli sbandieratori che verranno concentrati in piazze lungo le vie del paese faranno una replica la domenica pomeriggio. Sto studiando un posto un po' più grandino, insomma, perché, come sappiamo, gli sbandieratori hanno bisogno di tanto posto. Però vediamo, vediamo di studiare qualcosa con loro per la domenica pomeriggio.